Buongiorno cari amici, vi invito a iscrivervi al mio piccolo canale YouTube, visto che stanno cancellando sistematicamente le iscrizioni sia agli canali degli YouTubers piccoli sia a quelli grandi e dobbiamo trovare il modo di arginare questa sporca strategia e di fregarvi. Visto che tutto scorre velocemente, tutto passa rapidamente e tutti in generale, tutti noi italiani abbiamo poca memoria, credo sia sempre utile ricordarci della Grecia, parlare della Grecia, di ciò che è successo pochi anni or sono in Grecia, perché appunto noi abbiamo questo grosso difetto, dimentichiamo rapidamente. E la Grecia è stata l'apripista e quindi dopo la Grecia nel mirino c'è proprio l'Italia. Attenzione, attenzione, attenzione. Non scordiamoci mai di questo. Greci ormai senza pensioni né sanità, ci stanno cucinando a fuoco lento, spero che si veda il conto dell'austerity. Per saldare i debiti con le banche lo Stato si è ridotto a un esattore che non eroga più servizi, soprattutto nelle campagne, eccetera, eccetera. I medici lavorano per coscienza professionale, non certo per lo stipendio. I medici greci probabilmente sono anche migliori di molti medici italiani che invece si prestano a tutto. Parlo naturalmente in generale perché ci sono le dovute eccezioni. Vedete, cerco di ingrandire. Il debito pubblico in rapporto al PIL è 177,45. Noi non siamo lontani. 23% senza lavoro nel paese, quasi un quarto dei greci non ha lavoro. 660 euro la pensione percepita dal 43% dei greci nel 2017. Reddito medio 9.000 euro annui. Reddito medio di un greco over 65, 9.000 euro annui. Vedete dove ci vogliono portare. E ragionate, meditate.